Eh ragazzuoli, purtroppo c'è poco da dire e probabilmente c'è anche poco da girarci attorno al netto di quanto visto nelle ultime due partite, queste critiche sono abbastanza giuste, quantomeno sono condivisibili soprattutto in virtù dei discorsi che ci sono dietro. E parliamo ovviamente con tutta la calma del mondo, ci mancherebbe altro senza sparare sentenze definitive anche perché in parte la cosa bella del calcio è che ciò che vale oggi probabilmente non vale più domani e qualora dovesse accadere anche in questa circostanza sinceramente sarei proprio molto ma molto ma molto felice, non ci posso neanche troppo girare attorno. E prima di entrare nel merito come al solito ragazzuoli belli vi invito a lasciare un bel mi piace di sostegno, di supporto, di fiducia soprattutto evidentemente anche nei confronti di Dusan Vlaovic perché probabilmente non è che stia passando giorni poi così tanto belli e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché quella roba lì al di là di tutto rimane pur sempre una roba abbastanza importante perché comunque ridendo e scherzando già domani è giorno di vigilia, vigilia di Champions League, torna l'Europa che conta, torna la UE, in Champions League, sperando di non vedere una partita sulla falsa riga di quella vista ieri perché qualora fosse così potrebbe potenzialmente essere un problema non proprio da poco conto diciamo. Detto questo, purtroppo per quanto riguarda Dusan Vlaovic tocca anche essere incredibilmente onesti e questo discorso arriva da uno che Dusan Vlaovic lo stima e che nonostante tutto pensa ancora tuttora che può essere in grado di fare un'ottima stagione, sperando anche che possa fare un numero di gol superiore rispetto alle stagioni precedenti anche perché qualora così non fosse non tanto bene, non tanto bene in virtù soprattutto e non ci possiamo neanche troppo girare attorno di quanto il giocatore percepisce. Perché una parte di me rimane fermamente convinta di questo fatto che magari si può rivelare anche sbagliata perché poi dopo giustamente ogni persona ragiona come meglio crede e magari certi discorsi li andrebbe a fare a prescindere da quello che è lo stipendio di Dusan Vlaovic. Ci mancherebbe altro però inevitabile che vada a pesare il fatto che sia il giocatore più pagato della Serie A e non tanto il discorso per carità anche quello oggettivo e ci possiamo girare attorno quanto ci pare ma è così che solo Dusan Vlaovic a bilancio tra ammortamento e stipendio pesa come Lautaro, Turam e Taremi messe assieme. Va bene per l'amor di Dio è un dato oggettivo non ci puoi girare attorno posto che comunque in una circostanza si parla di due parametri zero e di un Lautaro che al tempo non mi ricordo neanche a quanto era stato prelevato dal racing ma ci mancherebbe altro rimane pur sempre un dato inconfutabile. Però pensando solo ed esclusivamente alla Juventus a Dusan Vlaovic senza pensare ai discorsi che gli anti juventini in questo caso gli interisti tirano fuori c'è poco da fare. Purtroppo nel momento in cui sei il giocatore più pagato della Serie A quindi ovviamente per forza di cose anche della Juventus hai un contratto a salire che in questa stagione ti porta a guadagnare più di 10 milioni netti e nella prossima più di 12. E che comunque sei tipo il settimo, l'ottavo giocatore più pagato in Europa è normale che le aspettative nei tuoi confronti siano alte, siano elevate, siano da giocatore più pagato della Serie A e settimo più pagato in Europa. Ci possiamo girare attorno quanto ci pare ma purtroppo perché evidentemente in questa circostanza è un grandissimo purtroppo è così, è così ed obiettivamente perché nonostante la stima bisogna essere anche obiettivi sempre con l'augurio che il giocatore stimato possa zittire tutti a partire da dopodomani ovviamente. Le prestazioni fatte contro Roma ed Empoli purtroppo non sono all'altezza ed è normale che più un giocatore è pagato più ci sono aspettative. Infatti un consiglio che potrei dare da povero scemo, ci mancherebbe altro, figuriamoci senza poi dover fare i conti in tasca perché obiettivamente si parla di cifre folli, fosse in lui, dato che poi si parla di un giocatore molto emotivo che soffre molto quando poi le cose non vanno proprio nel migliore dei modi, quando la Juventus deciderà di mandare avanti discorsi legati allo stipendio, allo spalmare, ascolta un povero scemo, accetta perché magari poi i discorsi saranno differenti, che spesso e volentieri in maniera anche legittima si sente, beh minchia, veramente questo qui è il giocatore più pagato della Serie A e poi magari vedi queste prestazioni contro la Roma che vabbè due settimane dopo contro l'Empoli, ascolta un povero scemo, ti leva anche delle pressioni quella roba lì, posto che comunque ti andrebbe a levare anche diversi milioni di euro e lì capisco che effettivamente non sia poi così tanto facile andare a dire di no, ci mancherebbe altro, però purtroppo quello è e questo discorso inevitabilmente si va a legare anche ad un altro discorso fatto ieri, fatto ieri sì, fatto ieri, vabbè fatto comunque nei giorni passati, bene o male ci siamo capiti, quello purtroppo legato alla mancanza di alternative là davanti, dove questo ovviamente per forza di cose non può essere un qualcosa di imputabile a Vlaovic nel momento in cui non è lui che decide le riserve o se vale la pena investire o meno sulla riserva ci mancherebbe altro, però è un problema, cosa che indirettamente ho evidenziato nel video post partita di ieri proprio negli istanti finali, perché in una circostanza come quella contro la Roma, come quella contro l'Empoli, l'idea che comunque non puoi puntare su un altro numero 9 perché fondamentalmente non ce l'hai e va a capire quanto avrai Arkadius Milik nell'arco della stagione, perché purtroppo si parla di un giocatore che per quanto bravo, perché secondo me lo è, quando sta bene, non sta bene praticamente mai appunto, e quello è un altro tema molto importante perché se magari vedi che per Vlaovic non è giornata e nella classica giornata che non la butterebbe dentro neanche con le mani dire vabbè, o comunque il numero 9 di riserva affidabile che butto dentro a mezz'ora dalla fine sperando possa andare a risolvere il tutto lui, purtroppo questa situazione non ce l'hai, speriamo forse di averla a partire dall'Ipsia Juve, dato che si vocifera che l'obiettivo di rientro di Arkadius Milik è proprio la seconda di Champions contro l'Ipsia, tre giorni dopo il Genoa fondamentalmente, speriamo, io sinceramente non lo so, sinceramente ho paura, d'altronde questo qui si era fatto male, a inizio giugno si parlava di 30-40 giorni, ne sono passati più di 90 e ancora non lo si vede neanche col binocolo, viene da sé che si fa fatica, e quello è un tema, quello è indubbiamente un tema, un altro tema è Vlaovic, te le può fare tutte, quello per forza di cose no, lo sappiamo a maggior ragione quando si gioca ogni tre giorni e per ormai quasi più di 100 minuti a partita vedendo tutti i recuperi, punto però figuriamoci quando purtroppo il giocatore o è 0 o è 10.000, o non la butta dentro neanche con le mani, o magari guarda da un'altra parte, il pallone gli rimbarza nella testa per sbaglio e va sotto il 7, purtroppo lì Vlaovic dovrà fare un importantissimo step in avanti, ed è altrettanto vero che purtroppo ormai questo discorso lo si fa di fatto dal gennaio 2021 quando è arrivato alla Juventus, e tra una roba e l'altra iniziano ad essere quasi tre anni, sono due anni e mezzo, e lui qui inevitabilmente in questa stagione si gioca praticamente tutto, avendo il coltello dalla parte del manico in virtù del contratto folle fattogli al tempo, ci mancherebbe altro, però questa è la prova del 9, se prima magari ci potevano più o meno essere degli alibi, quest'anno gli alibi non ci sono più, perché comunque anche solo ed esclusivamente pensando alla partita di ieri, Ildis a inizio partita in porta l'aveva lanciato, Nico Gonzalez l'aveva lanciato meravigliosamente in porta e anche quella la cannata, su calcio d'angolo all'inizio del secondo tempo ha praticamente, cos'è, 20 centimetri dall'aria piccola la sparata sulla luna, vero che quello non è proprio indicabile come vero e proprio errore nel momento in cui obiettivamente il pallone era abbastanza alto e non gli puoi attribuire lì la dicitura gol mangiato, ci mancherebbe, però in altre circostanze sì, che poi al di là di per sé del gol mangiato c'è sempre quel problema squisitamente tecnico, il pallone stoppato che finisce a due metri, la giocata sbagliata, l'incespicata che ti va a rovinare magari l'azione di contropiede dando la possibilità alla squadra avversaria di coprirsi e l'Empoli l'ha fatto meravigliosamente bene, visto che sono stati tipo mediamente in 14 nella loro tre quarti, però purtroppo esistono anche queste realtà e queste realtà devi essere bravo a fronteggiarle e infatti per chiusura si potrebbe dire come ampiamente prevedibile non neghiamocelo e come accadrà ogni qualsiasi volta che la Juventus non porterà i tre punti a casa marea di critica, Tiago Motta, siamo peggio dell'anno scorso che per l'amor di Dio come ho detto anche io ieri appunto nel video post partita, se contro la Roma ci posso stare a maggior ragione dopo due settimane di attesa dove la maggior parte di quelli che ieri sono scesi in campo dal primo minuto, sono stati alla continassa giornalisti che parlavano di intese collaudate nell'arco di queste due settimane proprio perché c'era tempo specifico per farlo e poi magari no? Vedi una partita come quella di ieri e dici porca miseria però io lì sinceramente continuo a mantenere la stessa linea che attenzione, nessuno ci dice che magari veramente tra otto mesi Tiago Motta non si dimostrerà un flop totale, per l'amor di Dio, d'altronde tutto passa per il lavoro, per il metodo e per i risultati che riuscirai a portare a casa, trofei piuttosto che valorizzazione, piuttosto che basi che riuscirai o meno a mettere per la Juventus del futuro però d'altro canto non ci possiamo neanche sempre girare attorno poi dopo se uno vuole la cacciara, se uno vuole anche la malafede ci mancherebbe altro e liberissimo di fare ciò che ritiene più opportuno, figuriamoci proprio però, appunto, stesso identico discorso fatto post Roma con l'unica cosa che cambia e che ieri effettivamente dal primo minuto ci sono stati diversi nuovi acquisti nel momento in cui decidi di cambiare letteralmente tutto dal metodo d'allenamento, dalla preparazione, dal modulo da ciò che richiedi di fare ai giocatori e soprattutto 30 operazioni tra entrata e uscita 9 e 21 praticamente se non 22 tra le altre cose qualche passo falso purtroppo, soprattutto all'inizio quando stai mettendo a tutti gli effetti in piedi un nuovo ciclo devi in una maniera o nell'altra anche tenerlo in conto poi certo è innegabile che se dici contro la Roma ci posso stare contro l'Empoli ti tiri il culo e figuriamoci che non possa essere così ci mancherebbe altro d'altronde il tifoso in generale figuriamoci poi quello della Juventus ambisce sempre a vedere la propria squadra non solo vincere, preferibilmente stravincere però calma calma coi giudizi perché un discorso è vivere il momento in una maniera negativa la cosa che mi sembra più evidente vedere è sparare sentenze dopo quattro partite dove comunque anche lì ci può sempre stare sulla carta prendere il bello che in questo caso si traduce in zero gol subiti in quattro partite in tre tiri in porta contro in quattro partite che mi pare sia capitato vado a memoria una volta negli anni 60 due volte negli anni 80 è l'ultima volta nella stagione 2014-2015 di prendere zero gol nelle prime quattro partite quindi tutto sommato degli aspetti positivi ci sono poi dopo se perenne motivi Tiago Motta sta sui coglioni a prescindere quindi a prescindere è merda va bene ci mancherebbe altro ne prendiamo atto e soprattutto ce ne facciamo una ragione in tranquillità però adesso vediamo capiamo anche veramente come sarà la Juventus una volta che tutti i concetti e soprattutto tutti i nuovi innesti saranno realmente amalgamati poi certo si può assolutamente dire anche perché penso sia quasi ai limiti dell'oggettivo che ieri Tiago Motta a maggior ragione col senno di poi soprattutto non abbia preparato la partita proprio nel migliore dei modi o schierando i migliori interpreti per la partita che poi effettivamente si è rivelata ci mancherebbe altro però calma penso che anche questo tutto sommato possa far parte di un processo di rivoluzione di un nuovo percorso dove ovviamente anche Tiago Motta dovrà essere bravo a lavorare sugli errori fatti per non ripeterli più o per ripeterli il minor numero di volte possibile poi intuendo il modus operandi la metodologia del lavoro che Tiago Motta ha e dell'ossessione che ha nell'andare costantemente a migliorare la squadra che allena a me verrebbe anche quasi da dire non ho dubbi che questo accadrà però è soprattutto una speranza non lo posso negare perché purtroppo la palla di cristallo io non ce l'ho esattamente però come chi spara sentenze definitive magari anche proprio nei confronti dello stesso Dusan Vlaovic che mi auguro riesca a trasformare queste critiche in una sorta di energia nervosa positiva che lo farà figa diventare capocannoniere a gennaio però purtroppo c'è da dire che in questo momento c'è tanto da fare veramente tanto dal punto di vista tecnico dal punto di vista mentale e tocca sperare fondamentalmente tocca sperare e detto questo ragazzuoli nulla voi fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve che